ragazzi ora vi faccio vedere il dietro le quinte dello speciale di un Masterchef roba da chi rodi poi non abbiamo neanche messo la cima vi faccio vedere di tutti aia io direi che questo è il momento vi ho portato da bere allora facciamo l'ingresso ok cosa è successo hai comprato i datellini Carla? l'hai comprato? l'ho fatta io allora digli a Bruno che l'hai fatta io perchè Bruno è stato dicendo che l'hai comorato mi conosce lo sa lo sa non mi conosce grazie ma che è successo oh è ecco oh Io vi ho portato semplicemente i gusti del mio personale natale. Scusate in ritardo, il mio traffico è un casino, ma eccomi finalmente, vado in ritardo. Buon Natale, buon Natale, buon Natale.